Mi dispiace non aver potuto raccogliere in presenza questo invito e con questo video ci tenevo però a rivolgere un saluto e un'attenzione concreta anche per il lavoro che voi portate avanti e soprattutto per i temi che saranno oggetto di questa importante tavola rotonda e confronto che avete messo in campo oggi in Basilicata. Interviene da remoto il ministro alle politiche di coesione al PNRR Raffaele Fitto al convegno in occasione della terza assemblea elettiva con Fimi sulle imprese per lo sviluppo sostenibile e tempo di agire. A giugno 2026 il termine per impiegare i fondi del PNRR ad oggi in fase di revisione da parte del governo è maglia nera all'Italia sui tempi e sull'opportunità che sta diventando un'occasione persa detto il presidente nazionale con Fimi. Forse con tanti piccoli progetti che servono comunque fare tanti piccoli progetti che possono arrivare a dare essere, a un certo punto se uno non riesce a fare le cose in grande a fare a meno quelle in piccole porta a casa tutte quelle che riesce a fare, se no sogniamo in vano. La politica sta capendo che se vuole lo sviluppo deve far sì che le aziende partano, se non c'è le aziende che lavorano lo sviluppo non c'è. E allora bisogna lavorare sulle imprese, però lavorare sulle imprese bisogna esserne a conoscenza di come sono i problemi, di quali sono le dinamiche, i reali problemi, anche quelli terra a terra, di cui devono venire a conoscenza per poter rimuovere, sistemare, eccetera, eccetera. Sennò l'Italia non parte, non decolla. Quando uno decide un passo di fare un'azienda al sud deve mettere in conto oltre i costi che ha in più e non in meno, perché i costi meno che tu hai dal magari aiuto che le norme, gli assunti al sud, hai uno sconto di 300 euro, eccetera, eccetera, mesi, spesso alla fine non riescono a colmare i costi che un'azienda del nord, almeno i trasporti che ha nord-sud, nord-sud, perché uno si produce qui, non può venderlo qui, deve venderlo dove lo vendeva prima. I trasporti che tu hai ti costano praticamente di più del risparmio che hai. Quando dico mettere i piedi a terra, la politica deve fare i conti con queste cose, che mai fatto quella bella legge non serve a niente. Oppure è inutile che fai le ZES se non fai i decreti attuativi. Ma lo sai anche tu che non avete fatto i decreti attuativi. Ti meravigli? Perché ti meravigli? La nostra Assemblea si pone proprio l'obiettivo di mettere al centro dell'attenzione, con tutti i decisori, rappresentanti istituzionali, stakeholder, di consentire alla Basilicata di non perdere questa grande occasione che è rappresentata dal PNRR e non solo, anche dal ciclo di programmazione 2021-2027. È importante che la Basilicata abbia una propria visione di sviluppo e la sappia rappresentare e anche negoziare con il governo. Le prospettive dal nostro punto di vista sono molto interessanti, perché la Basilicata è una regione tutto sommato piccola, può essere un laboratorio interessante, può creare quelle condizioni di sostenere il contributo, il rilancio del mezzogiorno, puntando su la lab logistico ed energetico, e proporsi come regione cerniera per consentire le connessioni delle dorsali di sviluppo tirrenico e adriatico. Ecco, qui si inserisce il discorso della ZES, zona economica speciale ionica in questo caso. Assolutamente sì, perché le ZES ci danno la possibilità di rilanciare le aree industriali della Basilicata, di collegarci con il porto di Taranto e di dare al sistema delle imprese il protagonismo, perché lo sviluppo lo possiamo generare solo attraverso le imprese che sono il vero motore della crescita del PIL, di creare occupazione stabile e duratura, quindi il protagonismo delle imprese non si può prescindere. Abbiamo delle risorse ingenti, incredibili, però non riusciamo ad accelerare sulla progettazione. È arrivato il momento, appuntamenti come quello di Erno lo sottolineano, è arrivato il momento di smetterla con miopie che non porterebbero da nessuna parte, dobbiamo accelerare sulla progettazione e sulla resa di questa opportunità. Non ne avremo più, siamo tutti un po' in ritardo, quindi tutti quanti siamo colpevoli, ma è pur vero che ci sono le risorse e quindi è necessario accelerare e farlo soprattutto però su opere strategiche. Non si può rincorrere qualsiasi opera, bisogna fare una cernita, mi pare che il governo in questo senso lo stia facendo, rilanciare con rapidità sulle infrastrutture, non solo quelle evidentemente classiche, strategiche che occorrono soprattutto al meridione. Noi imprenditori siamo un po' abbandonati a noi stessi, quindi sappiamo che la problematica della burocrazia è una problematica grave, serissima, che non si riesce a risolvere, andrebbe fatto, ma noi altri imprenditori eroicamente ogni mattina ci svegliamo e mettiamo in campo quello che abbiamo. Probabilmente però questo in un mondo come quello attuale non è più sufficiente. Occorre un'idea di sistema, quindi occorre che anche la politica supporti questo sistema perché le imprese ne hanno necessità. In questo modo si può veramente ripartire, altrimenti camminare in ordine sparso non si va da nessuna parte. Il PNRR non è solo fatto di risorse finanziarie, ma è fatto di riforme e ha degli obiettivi da raggiungere ed è questo il motivo per cui l'Europa ha dato tante risorse all'Italia, perché l'Italia è l'unico paese in Europa dove esistono ancora di vari inaccettabili, insopportabili di genere, di generazione, infrastrutturali, sociali, che il PNRR deve assolutamente colmare, altrimenti sarà un fallimento. Prodromico a tutto è l'atteggiamento molto serio, molto responsabile che il governo Meloni, il ministro Fitto, ha fatto su questa vicenda, cioè un'assunzione non solo di responsabilità, ma un'operazione verità. Quindi è necessario, a mio parere, da una parte fare riforme, dall'altra parte sugli investimenti da mettere a terra, forse concentrare gli investimenti su quelli più strategici e evitare di perdersi mille rivoli progettuali che sappiamo perfettamente avrebbero difficoltà a realizzarsi entro il 2026. Quindi operazione verità ottima da parte del governo, adesso ci aspettiamo che si prendano delle decisioni rapide, ma anche decisioni che possano in qualche modo puntare su quelli che sono progetti cantierabili, perché non credo che l'Europa ci possa ulteriormente aspettare. Tra le soluzioni creare reti di imprese, rafforzare il rapporto enti-università e sviluppare competenze. Il tema è quello della gestione dei cronoprogrammi, che si legano alla costruzione di un sistema di gestione dei progetti, quindi quello che tecnicamente sono approcci di project management, che le amministrazioni hanno bisogno di implementare. Questo occorre farlo sia nelle cabine di regia a livello regionale, ma soprattutto far sì che a livello periferico nelle amministrazioni locali ci siano le competenze e gli strumenti per poterlo realizzare. Ad oggi, non in tutte le amministrazioni locali questo è possibile, perché mancano le risorse umane molto spesso, allora diventa importante fare in modo che si possano creare delle reti coordinate. Su questo, in particolare, so che la provincia di Matera si sta attrezzando, per cercare di creare gruppi di lavoro che possano superare quelli che sono i limiti delle mancanze delle risorse. Resta il fatto, però, che in assenza di strumenti gestionali e di risorse umane, e quindi di capacità gestionale, può diventare difficile il rispetto dei cronoprogrammi, e quindi questo potrebbe significare inficiare la realizzazione dei progetti. Tutto ciò potrebbe essere accompagnato, e questa è un'altra iniziativa importante da realizzare, soprattutto nelle province, come il Comune di Matera, degli uffici di piano, degli uffici di progetto che possono seguire le amministrazioni locali e anche provinciali. Per una gestione ottimale, sottolinea Confimi, serve potenziare il coordinamento regionale sui fondi e il supporto degli enti locali. Visioni come queste, di confronto con l'impresa, rafforza la persuasione che si possono utilizzare bene e meglio le risorse disponibili in grande collaborazione, che sembra una parola semplice, ma in realtà se c'è una difficoltà proprio storica è mettersi insieme, fare le cose insieme e avere una visione positiva, costruttiva. Noi abbiamo importanti investimenti da realizzare, il PNRR mette a disposizione un miliardo e mezzo di euro che ricadono in Basilicata, di cui ce ne sono almeno 500 a gestione regionale, poi quelle che riguardano gli enti subregionali, i comuni, insomma c'è una forte spinta, ma ci sono soprattutto le risorse dei fondi strutturali, che sono maggiori del PNRR. Tutte queste risorse oggi hanno bisogno di essere finalizzate a progetti efficaci, cioè a lasciare qualcosa di tangibile, di percepibile nella vita economica e sociale dei nostri cittadini, delle nostre comunità. Quindi l'impegno del governo regionale, l'impegno del Presidente Bardi, proprio quella di evitare la frantumazione di queste risorse, cercare di essere tempestive, di riuscire a rispettare il più possibile le tempistiche che i nuovi programmi impongono, sapendo che chiaramente noi ereditiamo una pubblica amministrazione che è sottodimensionata, ha poco personale, siamo passati dall'eccesso di tante persone del pubblico impiego, oggi ha poche persone del pubblico impiego, con grandi problemi di accelerazione di attività amministrative e poi abbiamo bisogno di un sistema imprenditoriale che appunto in qualche modo sia in grado di intercettare non solo questi flussi di risorse ma che sia partecipi, in quale direzione andiamo, per quale tipo di sviluppo e quindi riorienti in qualche modo anche la propria attività per valorizzare al meglio le opportunità che ci sono. Un momento come quello che stiamo vivendo va affrontato in modo emergenziale con interventi non ordinari ma emergenziali, quindi occorre realmente aprire un dialogo concreto con i territori, con il tessuto imprenditoriale, con i cittadini, con gli endi per poter realmente pianificare e programmare una riforma che guardi all'interesse generale dei cittadini. Sulle province la necessità di stanziare risorse, di metterle nelle condizioni, sì di poter ritornare ad elezioni dirette ma con delle funzioni e con delle risorse finanziarie per poter intervenire sui territori. Non ci può essere il futuro di un territorio se non ci sono le infrastrutture, non ci può essere il turismo, non ci può essere un sistema sanitario che realmente vada incontro alle esigenze dei cittadini se non ci sono delle infrastrutture adeguate e bisogna per questo avere la capacità di poter fare una riforma che guardi alle funzioni e alle risorse finanziarie delle province. Non possono continuare a sopravvivere senza risorse finanziarie, c'è la necessità di avere coraggio, forza per poter dare a questi enti la possibilità di poter intervenire sui territori. Un momento molto delicato, importante direi strategico perché per le imprese, per anche gli enti locali, abbiamo l'opportunità del piano nazionale, il PNRR, ma ci sono anche gli appuntamenti del New Deal europeo, dell'Agenda 2030, quindi bisogna procedere verso quella decarbonizzazione per ridurre le emissioni di energia carbonica, abbiamo visto anche i disastri che le alluvioni possono generare, è tutto collegato, allora serve una visione organica di sostenibilità, il piano nazionale spinge molto verso questa visione, ma ovviamente anche le imprese, per le imprese è un'opportunità di business green, ecologico, quindi è il momento di connettere energie e saperi e quindi questi convegni sono molto importanti proprio per questo. Noi abbiamo candidato col PNRR tanti progetti proprio contro il discesso idrogeologico, l'eco station, quindi anche lo sviluppo sostenibile, milioni di euro che insomma un comune come Matera non vede frequentemente e poi connettendo appunto gli ordini professionali e le associazioni di categoria verso una visione comune. Anche per esempio il progetto del Parco del Campo che può sembrare solo una rigenerazione dello stadio spinge molto verso le aree verdi, quindi andare a liberare aree di cemento, la cementificazione selvaggia di qualche anno fa per creare situazioni permeabili che ci permettono di creare, ripeto, lavoro, economia ma anche sicurezza da un punto di vista idrogeologico.